Quali sono alcuni segni di diabete? Imparare a riconoscere i segni del diabete può aiutare le persone a cogliere la condizione in anticipo, prima che causi danni all'organismo. Molti medici raccomandano screening del diabete di routine per tutte le persone oltre i 45 anni di età e le persone che sospettano che possano avere i segni del diabete dovrebbero parlarne con i loro medici. I test per il diabete non sono molto costosi e ne vale la pena se la malattia può essere diagnosticata precocemente. Il diabete mellito è una malattia che è stata riconosciuta per migliaia di anni. Le persone con diabete non possono abbattere il glucosio, il che significa che le loro cellule diventano affamate di energia, perché il glucosio che le cellule hanno bisogno passa attraverso il corpo anziché essere utilizzato. Il metabolismo del glucosio richiede l'insulina, una sostanza che il corpo normalmente produce da sola. Nelle persone con diabete, c'è un problema con la produzione di insulina. Esistono tre tipi di diabete, diabete di tipo I, chiamato anche diabete insulino dipendente o giovanile, diabete di tipo I, chiamato anche diabete di insorgenza o non insulino dipendente e diabete gestazionale, una forma di diabete che colpisce le donne in gravidanza. Il tipo I è il più grave, causato da un malfunzionamento del sistema immunitario che provoca l'attacco del corpo alle cellule che producono insulina e che si manifesta più comunamente nei bambini, anche se le persone di tutte le età possono ottenerlo. Il diabete di tipo I è caratterizzato da una ridotta produzione di insulina o dall'insulino resistenza, il che significa che l'organismo produce la giusta quantità di insulina, ma l'insulina non è efficace. Il diabete gestazionale legato alla gravidanza può mettere a rischio il bambino. I segni del diabete sono molto simili sia per il tipo I che per il tipo I. I pazienti di solito ottengono estremamente sete o renano frequentemente, specialmente di notte. Stanchezza, letargia o stupore sono comuni, e alcuni pazienti cadono anche in coma diabetico, una condizione critica causata da un accumulo di chetoni nel sangue o da una grave ipoglicemia. Cambiamenti neurologici come intorpidimento, formicolio e cambiamenti visivi possono verificarsi anche insieme ad un aumento dell'appetito e alla perdita di peso. L'alito dolce e fruttato è uno dei tratti distintivi del diabete, così come la presenza di zuccheri nelle urine. Infatti, l'urina dolce è stata descritta in numerosi test medici antichi ed è uno dei più antichi criteri diagnostici per il diabete. Le persone con diabete di tipo I possono anche sviluppare alcuni altri sintomi. Nelle persone con insulino resistenza, possono svilupparsi macchie scure sulla pelle. Segni di diabete Il tipo I può anche includere ferite di guarigione molto lenta e infezioni croniche da lievito, causate dall'abbondanza di lieviti che si nutrono degli zuccheri che il corpo non sta utilizzando. Segni di diabete possono anche essere trovati nel sangue del paziente. I test di digiuno, in cui qualcuno si astiene dal mangiare per diverse ore prima di un esame del sangue, può essere utilizzato per controllare i livelli di glucosio nel sangue per indicare il diabete. Questo test viene anche utilizzato nella diagnosi del diabete. A volte, il test rivela il prediabete, il che significa che il paziente è a rischio di sviluppare il diabete a meno che non vengano apportate modifiche allo stile di vita. Il diabete gestazionale si manifesta spesso senza sintomi. Alle donne incinte viene diagnosticata questa condizione quando prendono un test del glucosio a digiuno, un test che è fortemente raccomandato. Le cause del diabete gestazionale non sono completamente comprese, quindi le donne incinte non dovrebbero sentirsi come se avessero fallito in qualche modo se fossero diagnosticate. Un certo numero di tecniche può essere usato per gestire il diabete gestazionale e la condizione di solito si risolve dopo la nascita.